E siamo praticamente in dirittura d'arrivo rispetto alla prima ora di diretta di RBI Radio e TV da Genova, dal centro sportivo Felice Ceravolo a Lagaccio a Genova per raccontare da un'ora in questo preciso istante la terza edizione del campionato mondiale di blogging. Adesso però insomma ovviamente siamo in diretta dal campo sportivo grazie ai nostri tecnici possiamo anche dare uno sguardo al campo sportivo che adesso evidentemente diciamo si è svuotato degli atleti che sono in giro a raccogliere rifiuti e dobbiamo ringraziarli anche solo semplicemente per questo mi verrebbe da aggiungere. Dicevamo prima del precedente passaggio musicale che insomma questa giornata e questa diretta oggi da Genova ci permette anche di raccontare dei progetti che sono come posso dire collaterali ma neanche tanto diciamo rispetto al campionato mondiale di blogging. Per cui io sono contento molto di dare il benvenuto a Roberto Nada, Riviera Sailing Academy qui oggi a RBI. Grazie Roberto, buongiorno. Intanto benvenuto e grazie per questo tempo che ci dedichi per raccontare in realtà un progetto dal mio punto di vista bellissimo e che sicuramente tu potrai raccontarci nella sua specificità in maniera molto articolata perché stiamo parlando di un progetto che va strettamente a braccetto con questo campionato del mondo che è il seaplogging. Intanto di cosa stiamo parlando Roberto? Stiamo parlando di seaplogging che è l'attività di raccolta del littering, dei detriti, dei rifiuti che si trovano in mare. Io sono un navigatore di vela d'altura, coordino una scuola di vela di Genova, Riviera Sailing Academy e da anni navigo per il Mediterraneo. Io credo che chi fa navigazione a vela abbia da una parte il privilegio di poter vivere il mare in presa diretta, però d'altro canto abbia anche un'enorme responsabilità cioè quello di raccontare il mare, di dare voce al mare. È un ecosistema che è bellissimo ma è anche molto facile. Noi purtroppo navigando sotto costa o a largo troviamo veramente una quantità di rifiuti impressionante e osservando i rifiuti che troviamo si scopre che noi immaginiamo sempre che i rifiuti arrivino dalla terra, che noi buttiamo i rifiuti per strada e poi dalla strada la pioggia, i torrenti li portano in mare e questo è assolutamente vero. Infatti dobbiamo ricordarci quando buttiamo un rifiuto per strada che l'oceano inizia nel tombino sostanzialmente, poi dal tombino arriva. Ma in realtà ci sono tanti rifiuti che vengono generati in mare e poi tornano alla terra, quindi i rifiuti hanno una sorta di cammino circolare, di scambio continuo tra mare e terra. Noi per esempio troviamo tantissimi attrezzi da pesca abbandonati, reti, galleggianti, tantissime cassette di polistirolo e tutti questi prodotti, uno, sono tossici, due, sono mortali per le specie marine. Poche settimane fa abbiamo trovato una tartaruga, fortunatamente ancora viva, intrappolati in una rete da pesca, abbandonata a largo. Però allo stesso tempo tutto questo materiale cosa fa? La terra arriva poi sulle spiagge, si disgrega sulle spiagge, si trasforma in microplastiche, il vento lo porta nei campi e nelle campagne che ci sono sulla terraferma e da lì ritorna nel circolo. Quindi intervenire sui rifiuti in mare ha, uno, una valenza di tutela dell'ambiente, perché ovviamente raccogliamo dei rifiuti che sennò rimarrebbero dispersi, ma in più ha una forte valenza comunicativa perché dobbiamo essere consapevoli che il mare è un ecosistema che veramente ha rischio e che richiede l'impegno di tutti, sia di chi naviga, sia di chi naviga, sia di chi è sulla terraferma per essere tutelato. Intanto Roberto mi colpisce un elemento, Roberto Nada, Riviera, Sailing Academy, ribadisco. Poco fa hai fatto un'affermazione, dal mio punto di vista molto forte, ma lo possiamo dire ancora più forte, l'oceano inizia nel tombino, insomma, quanto forte dobbiamo ripetere questo che dovrebbe essere un mantra, insomma, ce l'abbiamo sotto casa, cioè cominciamo, come posso dire, a sfregiare l'ambiente proprio da casa nostra, no? Assolutamente, perché qualunque rifiuto non disposto correttamente, quindi lasciato per strada, messo a fianco del cassonetto, le cicche buttate in spiaggia, le plastiche lasciate in spiaggia, sono tutti materiali che piano piano migrano verso il mare e in mare finiscono. E quando arrivano in mare ovviamente fanno dei danni incommensurabili. Quindi la consapevolezza di quando siamo a casa, di fare correttamente la raccolta differenziata, ma soprattutto di non lasciare rifiuti in giro. Guarda, proprio ieri abbiamo fatto il child plug-in, quindi c'erano i bambini delle scuole di Genova che hanno dedicato un po' del loro tempo a correre qua intorno al centro sportivo del Lagaccio e a raccogliere rifiuti. In mezz'ora hanno raccolto 50 kg di rifiuti. Questo fa effetto però, in mezz'ora? Però quello che raccontavano loro era, se voi non li raccoglievate questi rifiuti, non restavano qui al Lagaccio, perché il primo temporale, e come sappiamo anche la violenza delle piose dei temporali negli ultimi anni per il riscaldamento globale sta aumentando, un temporale violento prende questi rifiuti e li porta in mare. Quindi voi avete risparmiato al mare 50 kg di rifiuti, di questo dobbiamo essere consapevoli. È chiaro che è banale quello che sto per dire, però quanto è incisivo il lavoro che si fa con i giovanissimi partendo dalle scuole, in base anche alla tua esperienza, Roberto Nado? Il lavoro che facciamo con i giovani è importantissimo perché la difesa dell'ambiente parte da lì. Innanzitutto l'ambiente è loro più che nostro, perché sono loro quelli che vivranno nel mare e sulla terra ferma. E devono essere loro consapevoli di quei piccoli gesti, perché non stiamo parlando di grandi progetti, di quei piccoli gesti che possono fare una grande differenza. Ci racconti in poche battute se è possibile in cosa consiste un'azione di Cplogging? Per chi invece viene dalla terra ferma, che cosa vuol dire fare concretamente Cplogging? Allora, guarda, intanto faccio una confessione, nel senso che noi il Cplogging l'abbiamo iniziato a fare anni fa in modo del tutto inconsapevole. Se noi navigando, quando vediamo una cassetta di polistirolo, un sacchetto di plastica, ci fermiamo e la raccogliamo. Poi ci siamo accorti che raccogliere in mare non è così agevole, quindi abbiamo trovato dei retini, delle reti adatte per la raccolta e abbiamo anche capito le manovre corrette per riuscire a recuperarlo facilmente. Consentimi, Roberto, che per ripulire l'ambiente si può essere anche inconsapevoli di fare delle azioni. L'importante è farlo, no? Noi non sapevamo neanche esattamente cosa stavamo facendo. È stato solo poi in seguito che ho scoperto che sulla terra ferma questa attività era già ben consolidata con l'attività di Pplogging che ha ideato Eric, che Roberto Cavallo ha introdotto in Italia e che è uno sport vero e proprio. Quindi noi continuiamo a fare questa attività e ci sono tantissimi belisti che quando vedono un rifiuto si fermano e lo raccolgono. La mia speranza è che il Pplogging possa diventare un'attività sportiva consolidata anche in mare, cosa che adesso non lo è. Il mio sogno è quello di riuscire a organizzare delle veleggiate in cui invece che guardare soltanto il tempo di percorrenza, come si sta facendo oggi qui con i campionati mondiali di Pplogging, in cui si possa valutare il punteggio delle barche in base alla quantità di rifiuti che raccolgono in mare. Quindi anzi il mio invito è proprio alla città di Genova di farsi promotrice di attività di questo tipo perché ci sono secondo me tanti tanti velisti che sarebbero appassionati a partecipare a un'attività di questo tipo. Mi raccontavano che in realtà per quanto riguarda pervenire strettamente alla vela, all'attività di vela, quando si è in mare si abbassa la vela per raccogliere in qualche modo il rifiuto visto in mare o ho capito male? Ci sono delle manovre a vela perché chiaramente per raccogliere un rifiuto, contrariamente a quando siamo in un campo, non possiamo continuare a correre e raccogliere i rifiuti in corsa. Quindi la barca a vela deve fermarsi e per fermarla ci sono delle manovre che permettono, magari senza neanche ammagnare le vele, ma che permettono di fermare la barca per quei pochi secondi che ci danno il tempo di raccogliere il rifiuto. Ovviamente bisogna riuscire a fermarsi anche accanto al rifiuto, quindi bisogna essere i bravi velisti. Per chiudere Roberto, ma qual è il sogno di Roberto Nada, diciamo velista, responsabile di una scuola di vela e che però decide anche in questo caso, l'abbiamo detto anche a più riprese già stamattina in un'ora di diretta, decide di non girare la testa dall'altra parte ma decide di prendersi realmente cura dell'ambiente, in questo caso del mare. Il tuo sogno Roberto? Il mio sogno è che non sia più necessario essere qui a parlare di seaplogging. Il mio sogno è che ci siano, che si instaurino dei comportamenti così responsabili sulla terraferma e in mare che non sia più necessario parlare di raccolta, di littering, di rifiuti, perché i rifiuti non arrivano al mare e possibilmente non arrivano neanche sulla terra. Questo è un sogno, però se non lavoriamo tutti quanti insieme per realizzarlo non ci si arriva mai. E allora, Roberto Nada, io ti ringrazio moltissimo, Riviera Sailing Academy, per averci raccontato il tuo progetto, il tuo lavoro, l'attività di seaplogging. Grazie ancora per essere stato qui con noi a RBE. Buon lavoro, buona giornata. Grazie, grazie anche a te. Un po' di musica e torniamo ancora da Genova con la terza edizione del campionato mondiale di plogging.